Il respiro cotto e il respiro affannato della corsa del crimine attraverso la società, un crimine sempre di più legato all'economia, anzi frutto dell'economia di una società criminogena che determina continuamente situazioni di crimine, strutture anticrimine, una spirale senza fine e quindi alcune intelligenze, soprattutto che vengono fuori dall'università, oggi entrano in questo gioco e lo fanno in maniera molto pesante. Poi questo romanzo parla anche delle contraddizioni e dei conflitti all'interno delle organizzazioni criminali classiche investite nella crisi dell'economia e della crisi della politica che non riescono a gestire e quindi da Lang in India, Sud dell'Est in Paraguay, la Russia, Marsiglia, si corre più veloce il crimine e più riesce a rimanere all'interno delle logiche economiche. Infatti è ambientato in diverse città che tu hai visitato personalmente, da quello che ho letto, fra cui Marsiglia, la patria di Iso, che è ovviamente un noirista, uno dei maestri del noir. Ti è venuto aggirando anche per alcune università straniere. Ho letto in cui è appurato che appunto i figli dei boss in qualche modo si istruiscono, studiano marketing, studiano economia, studiano addirittura ingegneria ambientale con i veri colletti bianchi. Ma io questa grande differenza oggi non la vedo, nel senso che le regole che gestivano la criminalità un tempo non esistono più da quando la criminalità si è globalizzata, perché la criminalità è diventata una grande multinazionale e quindi ragiona come una multinazionale vera, cioè senza nessun rispetto delle regole. E quindi è questa la nuova dimensione del crimine. E poi il crimine non è più legato a una dimensione agro-pastorale, ma è legata a una dimensione delle professioni. E questo è un altro dato importante da rimarcare all'interno, anche secondo me, delle narrazioni, nel senso che è importante raccontarlo. Essendo legato all'economia globale, come tu giustamente hai detto, ha risentito anche della crisi economica globale. Questo è un elemento che è presente nel tuo romanzo? Sì, è un romanzo sulla crisi, cioè nel passaggio dalla crisi al conflitto. La crisi sta rideterminando tutto, ma sta rideterminando tutto anche all'interno dell'universo criminale. E quindi questa corsa è perché arriva prima, quindi il respiro corto è la corsa veramente di chi riesce ad arrivare prima e capire come funzionano gli affari oggi. Ci sono diverse storie che racconti all'interno del romanzo, ho sentito appunto di quella del legno di Chernobyl, poi c'è anche la guerra dei territori a Marsiglia, che hai definito in un'intervista la più grande battaglia criminale d'Europa. Fra queste tante storie ci dai una prima anticipazione raccontandoci quella che ti ha colpito di più e che è all'interno del tuo nuovo libro? Vabbè, la storia del legno di Chernobyl, che nel senso arriva in Slovenia, diventa legno sloveno e noi ce lo mettiamo come travetto, camera a letto, oppure ce lo respiriamo come pellet. Invece è molto interessante la guerra dei territori a Marsiglia, perché lì c'è nato il più grande conflitto militare d'Europa da moltissimi anni. Nel senso anche ieri i colpi di Kalashnikov si sono regolati i conti di bandi di 19 anni che stanno andando alla conquista dei quartieri, i quartieri degradati. Il degrado sociale ha portato a un conflitto militare per il controllo del narcotraffico, ma non accadeva da moltissimi anni. Sherwood Web TV vi invito ovviamente a leggere il nuovo libro Respiro Corto di Massimo Carlotto, editore Enao di Stile Libero. Grazie Massimo per questa intervista. Grazie a voi.